Scegliere il commercio locale è dare un futuro sereno alle nostre città. Ciao Pasquale! Oggi ho proprio voglia di qualcosa di buono. Pasquale, cosa mi proponi oggi? Sono eccezionali, guarda! Buonissimo! Lo soppiamo, non c'è bisogno di quello di lei. Lo dica, lo dica! Dove? Lo dica quanto è buono da Pasquale il re dei formaggi. Sicuramente buonissimo! Eccoci qua, grazie Pasquale, sei proprio veramente il re dei formaggi. Alla salute! Viva Pasquale! Ciao! 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 Ciao!